Un incendio scoppiato per cause in via di accertamento ha interessato la notte scorsa alcune strutture balneari della Cesanella a Senigallia. I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi, sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza il sito. Ad essere aggrediti dalle fiamme sono stati box in uso all'ufficio locale marittimo e a privati. Le strutture sono in concessione alla Gestisport e sono utilizzate per il rimessaggio di barche, corde, segnalatori, boe e tutto il materiale marinaro. Due su cinque quelle interessate dalle fiamme assieme ad una passerella di legno. Ora i vigili del fuoco e la polizia di stato stanno indagando sul rogo per accertare le cause e quale sia stato l'elemento scatenante. grazie mille! grazie a tutti!